Però non si è capito questi diamanti di chi sono? Qual è la proprietà? Non so, a quanto abbiamo capito il tesoriere li ha comprati con i soldi della Lega, sbagliando, li ha restituiti e noi li restituiamo in denaro ai legittimi proprietari, ossia ai militanti della Lega per fare attività politica sul territorio e non per sfoggiarli sabato sera. Si avvicinano le elezioni di maggio, tutto questo vi crea delle preoccupazioni? Pensate che ci possono essere ripercussioni sul voto? La gente ci sta riconoscendo l'operazione di dimissioni, espulsioni e pulizia che nessun altro partito ha mai fatto e io trovo tanto entusiasmo, tanto orgoglio e tanta voglia. Poi votano per i comuni, votano per il sindaco di Cantù, di Tradate, di Monza e di Como, non votano per i diamanti o per le falsità dei giornali.